Ed ecco a voi il Renegade! Tutti per lui! Lui per tutti! È lo scooter simpatico, non si stanca mai, arrampica dappertutto, è diverso da tutti. Tutti per lui! Lui per tutti! 50 centimetri di cilindrata. Si può guidare anche a 14 anni. Senza targa e senza patente. Tutti per lui! È un prodotto...